parole straniere per dire hater odiatori che oggi è diventato un mestiere c'è proprio un mestiere di odiatore ma io sto dicendo che ne so io sono italiano ma io sono perfettamente uguale a una persona nata in ruanda no perché ci sarà qualcuno che dirà che non è così perché ognuno deve rimanere con la sua identità perché se c'è uno che è diverso da te è il male assoluto ecco è così oggi funziona così quindi bisogna non dico convivere con questa cosa non bisogna convivere bisogna lottare tutto questo affinché ognuno sia felice di quello che è di quello che bianco rosso giallo alto basso basta basta non ce ne vuoi più non ce ne vuoi più ciao